Al castrum di Giulianova inizia ufficialmente... Questione di stile? Anche, ma sarebbe il meno. Questione di galateo? Certo, ma non tutti hanno la fortuna di avere il patrimonio prezioso della buona educazione. Questione di fair play? Lo sarebbe se qualcuno gli assegnasse l'importanza che merita. E invece, qui, oltre al calpestio del diritto televisivo, ad uscire acciaccate da cotanta protervia, sono state tutte le virtù sopraelencate e pure molto altro. Per esempio, il rispetto per il lavoro, in campo e fuori dal campo. Il rispetto dello spettatore, che preferirebbe avere l'immagine sgombra dalle corna e dal dito medio del signore in questione. Il rispetto dello sport, già acciancicato da vicende che così spesso ne tradiscono lo spirito e gli obiettivi più nobili. Il rispetto, soprattutto, per chi, siamo nel campionato di eccellenza, scende in campo per pura passione. Per chi suda quasi gratis, sottraendo tempo alla famiglia, agli affetti, al lavoro, perché lontano da quel pallone proprio non ci sa stare. Qui non c'è tifo che tenga, è piuttosto maleducazione. I gesti volgari del signor Filippo Di Antonio, editore di Super J e vicepresidente della Torrese, non hanno bisogno di interpretazioni. Sistemata la sua troupe, quella di Super J, nella postazione assegnata per le riprese della partita, l'editore vicepresidente è andato, lui, a piazzarsi in piedi esattamente davanti alla telecamera della troupe di La QTV, che segue il campionato di eccellenza in sinergia con Rete 8, ostacolando visibilmente il lavoro dell'operatore. E, sia chiaro, il signore in questione non è il matto del villaggio, né un alzatore abituale di gomito, ma, appunto, il vicepresidente di una delle squadre in campo, nonché l'editore televisivo che ha partecipato, come Rete 8, al bando emanato dalla Lega Nazionale di Lettanti per i diritti per l'esclusiva del campionato di eccellenza. Ora, se il non avere digerito l'esito finale del suddetto bando è un problema suo, il modo in cui lo ha manifestato è, o potrebbe essere, un problema di tutti, anche della democrazia, e magari potrebbe finire sotto la lente dell'ordine dei giornalisti.